Campioncini, prima che il video inizi vi interrompo un secondino solo per dirvi che sarò al Games Week venerdì, sabato e domenica al Padiglione 20 in compreni Marchi, Xeao, Kendal e tante altre persone, quindi mi raccomando venite a trovarci al Milano Games Week il 25, 26, 27 novembre, Padiglione 20. Sono uscite le nuove skin dei mondiali, ormai lo sappiamo campioncini, per questo motivo andremo a girare la nuova ruota dei mondiali di Istanbul Guys. Ma oggi il video terminerà ogni volta che troveremo la mappa dei mondiali, quindi benvenuti e bentornati in questo nuovo video. Quindi, ogni volta che capiterà la mappa del calcio ragazzi e soprattutto la prima volta che capiterà il video finirà. Benvenuti e bentornati in questo nuovo video. Campioncini, io in realtà vorrei anche trovare non solo la skin di Roberto Carlos, che in gioco è che Roberto Carlos, anche se non è proprio bello il nome. Dobbiamo trovare, uuuuh, non ce l'avevo, no ce l'avevo questa skin qua, non me lo ricordavo, dicevo, dobbiamo trovare la skin leggendaria del giocatore del Brasile. Abbiamo trovato anche il leone senegalese e già avevamo il leone tedesco. Noi campioncini in questo momento facciamo gli ultimi 5 giri di ruota e ci catapultiamo direttamente in parita, quindi fino a quando non troveremo la... No, non ci credo! Voglio giocare con questa skin ragazzi. Voglio giocare con la skin del troll italiano perché la voglio assolutamente, la cercavamo anche nello scorso i miei Istanbul Guys e vorrei anche magari trovare il re del Brasile, caro bellissimo gioco, anche perché sto shoppando veramente tantissimo. Però troviamo, uuuuh, il giappone robot, che però dovevamo doppione, quindi ci rientriamo con gli Istanbul Coin. Vediamo l'ultimo giro di ruota. Niente, ancora i passi da nazione a Istanbul Guys. Quindi indossiamo la nostra skin italiana troll e andiamo in partita. Vediamo cosa ci esce come prima mappa, sicuramente non può uscire la mappa del calcio che può uscire solo come seconda mappa, quindi il primo round lo possiamo giocare super tranquilli. Vediamo cosa diamine ci uscirà e cosa ci regalerà Istanbul Guys se ci esce un blocco, già ci impazzisco, eh. Perché vuol dire che la mappa è hackerata? No, ok, la partita non è hackerata, abbiamo un spingo round. Tranquillissimo, questo mondo possiamo passare senza alcun tipo di problematiche, passiamo anche per primi. Quindi andiamo subitissimo, lanciamoci direttamente, magari evitiamo la calca di persone subito agli inizi. No, 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 la scivolata qua, no, potrebbe essere un enorme problema ma l'abbiamo sorpassata tranquillamente. Anzi, facciamo noi una bella scivolata giusto per ripagare quello che ci hanno fatto all'inizio della partita. Andiamo tranquilli però in questo round, eh, qua facciamo anche una bella... Ma cosa? Il robot che non è il robot giapponese delle nuove skin di Istanbul Guys ha evitato la mia scivolata come diamine. Mi si permette di essere anche ultimalissimo, quindi con molta calma. E questo qui è il robot, la cucca! Però dovremmo passare in realtà tranquillamente questo round noi ragazzi. Quindi facciamo un bel super saltone, facciamo una scivolata a questa ma skin qua tedesca e arriviamo sessi. Super tranquilli ragazzi. Ora, in realtà in questo momento non potrei tagliare nulla, quindi da adesso in poi non taglio assolutamente niente. perché voglio dimostrare che la seconda mappa non sarà calcio, se no il video categoricamente ragazzi deve finire, deve terminare. Quindi con la mia nuova skin troll italiana, speriamo che Istanbul Guys non mi regali alla seconda mappa della partita del calcio perché se no il video finisce. Quindi speriamo, Istanbul Guys, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego. Chiaramente abbiamo spessere di sta fianco al calcio. Vediamo, ti prego, niente mappa del calcio, ti scongiù, niente mappa del calcio. Ok, ok, file fall. Quindi qua possiamo andare tranquilli anche perché in finale è impossibile che ci esca il calcio. Quindi qua l'unica cosa su cui possiamo stare tranquilli è sperare di giocarcela per bene, di non prendere nessuna emote da pugni e calci verso la fine. E che magari ci sia anche qualche... Ah no, qua la stavo sbagliando perché il doppio salto come diamina ha fatto con la farlo, scusatemi. Giusto per capire un attimino, tiriamo un pugnetto a qualcuno. Ok, ok, ce la possiamo fare. Scivolatona per far cadere questo player. Ok, arriviamo in finale. No, 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 alzati. Mi ha fatto una scivolata alla fine che era rischiosissima. Ok, qua possiamo andare tranquilli e tirar dritti verso la finale. E se vinciamo la finale facciamo anche 10 giri di ruota speciale per provare a trovare Metista. Dai, impacciamola questa cosa. Lava Rush, ok. Possiamo giocarcela tranquilla anche se in realtà lava Rush è una mappa che in finale io odio giocare insieme a Space Race. Però vabbè, fa niente. Tiriamo dritti e proviamo a vincercela ragazzi. Proviamo a fare il saltino da questo lato. Ho sbagliato, non riuscirò mai a farlo questo trick. Però vincere la finale sulla varush non è neanche scontata. Vabbè, non voglio parlare ragazzi. Veramente la mia sfortuna è gigantesca in questa map. Dannazione! Vabbè, mi hanno sparato qua sopra. Va bene, va bene. Sumble Guys oggi non mi vuole per niente bene. Quindi facciamo che praticamente quelle palle là ragazzi le sponano solo per darmi fastidio. Io ormai lo so questa cosa qua. So che Sumble Guys sa quando io passo in quell'esatto momento e quindi mi viene a dar fastidio perennemente. Noi però facciamo il trick del lato in questo caso. Quindi giriamo di qua. Quindi saltiamo anche qua sopra. Saltiamo qua. E tra un po' facciamo il doppio salto. Occhio alla palla. Occhio alla palla San Terzi. Occhio alla palla San Terzi. Ragazzi ce ne sono davanti noi solamente... Ce ne sono ovviamente uno di player. Quindi facciamo il salto di qua. Con calma. Questo Kenneth qua potrebbe caderci ragazzi. Potrebbe caderci. Quindi speriamo in una sua eventuale caduta. Ok. Saltiamo di qua. Saltiamo qua sopra. Ok. The Mark. No! Ho failato all'ultimo. Ho failato all'ultimo. Non ci credo ragazzi. Era una quasi vittoria. Era una potenziale quasi vittoria. Però dannazione a noi. Dannazione! Che peccato! Anche se no perché odiavo non fa niente ragazzi. Non ci possiamo far nulla. Dai. Catapultiamoci subitissimo in parita. Qua non taglio. Per far vedere che tutto quanto va liscio. Delito come l'olio. E ci catapultiamo subitissimo in una nuova partita. Perché se no ragazzi. Mi dite. Marco è tagliato. Ha giocato una partita. Che in realtà. Poi è uscita da calcio. Andiamo direttamente subito qui. Paint splash. Da qua posso fare tutte le partite che voglio in questa partita. Però dovremmo passarla tranquillamente. Che gran peccato ragazzi. Che non abbiamo vinto in Lava Rush. Ma se non avessi failato. Per quel centimetro stupidissimo. Dannazione a me. Dannazione che voglio fare le cose di fretta. Avrei potuto vincere la partita. Sicuramente. Quindi qua proseguiamo. Andiamo direttamente con la nostra skin troll. Qualche scivolatona. Qua ci sarebbe. Infatti abbiamo colpito un player. Di qua passiamo da questo lato. Perché il trick di là. Non è per niente semplice. Oh. Ci sono un sacco di player qua eh. Che se la stanno giocando per benino. Occhio al saltone di là. Ok. Poi saltiamo da questo lato. Bananita. Dannazione. Oh. Cosa diamo nel mio successo alla super velocità. Saltiamo di qua. Saltiamo al centro. Ok. Mamma di marca ragazzi. Primo. Ottimo. 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 Da qua in poi. Ovviamente. Non posso far nessun taglio. Perché se no. Poi. Mi dite che ho cambiato mappa. Quindi vediamo un attimino cosa andremo a trovare. Pumba. Dai che mi arrivi sedicesimo. Pumba. Ok. Bravissimo. Pumba con la skin di Messi. Speriamo niente calcio. Ti prego. Stumble guys. Non regalarmi il calcio. Voglio rifare almeno. E voglio portare a casa. Una partita. In questo video. Quindi ti prego. Niente mappa dei mondiali di calcio. Ti scongiuro Stumble. Ti prego. Ti prego. Ti prego. Niente calcio. Niente calcio. Niente calcio. Niente calcio. Niente calcio. Per favore. Dai. Mi è passata avanti due volte la mappa del calcio. Per favore. Non regalarcela. Siamo in tantissimi con le skin di calcio all'interno della lobby. Lo so molto bene. Non la vedo da un sacco ragazzi. Mi è passata avanti. Bombardment. Va bene. Uh. Calma. Ci possiamo. Cioè possiamo arrivare in finale. Giusteremocela per bene con moltissima calma. Possiamo utilizzare i nostri mod del pugno che qua sono fondamentali. La bomba qua ci ha sfiorato tantissimo. Però. No. Urca ragazzi quanto ho rischiato di lanciarmi sulla bomba direttamente. Non è caduto ancora nessun player. Beh. Facciamo cadere qualcuno con qualche pugnettino eh. Uno è caduto. Quindi giochiamocela con molta 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 calma. Due player sono morti. Ora. Ne sparo uno direttamente sulla bomba. Haha. Giusto per trovare un pochino. Oh. Le bombe sono molto più cattive ragazzi. Mi sembrano. Aia. In questo game. Dannazione. Mi ha tirato una sberra. Una bomba gigantesca. Però. Catapultiamoci da questo lato. Sono morti solamente due player. Ok. Stumble. Ok. Va bene. Lo accetto io. Con molta 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 calma. Altri due player sono morti assieme. Un altro ci ha abbandonato. Un altro ci ha abbandonato. Un altro ci ha abbandonato. Sette e otto. Ottimo ragazzi. Tanto. La mappa in finale non può essere calcio. Quindi ci vediamo direttamente in finale. E in finale abbiamo over and under. Almeno una corona in questo video. Devo portarmela a casa. Dannazione. Proviamoci. Magari qua con qualche trick in più. Possiamo andare direttamente a vincerla. E a portarcela a casa. Qua non facciamo saltino. Perché sennò potrebbe essere un problema. E qua potremmo fare una sciuata a questo pumba. No. Non ci credo calcolato. No. Sto calcolando malissimo tutto il tempo. Quindi. Risaltiamo da questo lato. Anche se qua i player possono utilizzare un sacco di trick. Dannazione a noi. Dannazione. Dannazione. Devo saltare un attimino qua. Anche se prendo una sberla fa niente. Qua saltiamo. E prendiamo anche qua una sberla. Perché tanto andiamo in avanti. Saltiamo ancora. Abbiamo davanti solamente pumba. Che ha rischiato di prendere una bella sberlona. Eh. Non ce l'ho fatta ragazzi. Ho provato un trick per arrivare verso pumba. Ma non ce l'abbiamo fatta. Eh. Pumba ce l'ha fatta invece ragazzi. Dannazione a pumba. Rial sempre secondi. Ah. Ma possiamo arrivare sempre secondi. Dannazione in questo video. Dannato pumba. Con le mod di Fortnite. Io la chiamo così ragazzi. Quella è palesemente le mod di Fortnite. Altra partita e altra corsa. Vediamo cosa andiamo a trovare in questa mappa. Nel prossimo. Oti. Per favore. Sambol. Non posso stare un'ora a guardare sta schermata. Vabbè. Sono un'ora in silenza a fissare sta schermata e la metterò velocizzata. Oh. Finalmente. Mamma mia. Vediamo. Prima partita cos'è. Anche perché soprattutto voglio vedere nel secondo round cosa andiamo a trovare. Uh. Carina. Pivot push. Va bene. Vabbè ragazzi. Andiamo direttamente in pivot push. Proviamo a finire questa mappa anche se partiamo nella seconda fila. Che non dovrebbe essere per niente male. Qua devo capire perché tutti quanti puntano al lato destro e non al lato sinistro. È una cosa che non so se ci avete fatto caso anche voi ragazzi. Ditemela qua sotto nei commenti. Ma questa è una cosa che io ho sempre notato su questa mappa. Che tutti quanti all'inizio puntano ad andare sul lato destro invece che su quello sinistro. Non lo so. Non ho mai capito perché di questa cosa. Occhio che qua ci fanno cadere tutti quanti con la scivolata. Dannati voi. Dannato schetro che volevi farmi cadere. Insano 007. Però vediamo se ce la facciamo. Ok. No. Non ci posso credere. Ho preso questa sberla qua inutile. Saltiamo di qua. Dovremmo passare anche questo round. Passiamo tranquillamente anche questo round ragazzi. Per quarti o quinti o per quel che è stato. Vediamo. In il secondo round troviamo la mappa del mondiale. Se non dovessimo trovare la mappa del mondiale. Io potrei dichiarare questa sfida comunque ragazzi vinta. E provare a vincere poi in finale. Perché ragazzi. Sennò è assurda sta roba che non troviamo la mappa del calcio. Che io veramente trovo ultimamente da quando ho fatto la giornata dei mondiali. Sempre quando gioco a Stumbleguys. Quindi vediamo cosa andiamo a trovare. Seconda mappa. Fatemi vincere questa challenge. Niente calcio. Niente calcio. Niente calcio. Niente calcio ragazzi. Io direi che abbiamo vinto questa challenge. Perché sennò il video dura 168 minuti. E sta cosa qua non va bene. Però possiamo proseguire. E dobbiamo vincere assolutamente questa mappa. Se non vinciamo. Anzi non questa mappa. Questo round. Direi che devo categoricamente scioppare. Comunque su Stumbleguys. Almeno 20 giri di ruota speciali. Almeno mi fate scioppare. Spendere un po' di gettoni a Stumble. Comunque. Dobbiamo puntare alla finale. Ho rischiato tantissimo di morire ragazzi. Di lasciarci le penne. Qua carichiamo il fatto che si giri il blocco. Quindi 1. 2. 3. E 4. Ok. Via. Facciamo anche una scivolatona. Saltiamo da questo lato. Saltiamo anche di qua. Occhio. Che sennò qua scende troppo. Questo qui. Uh. Mi ha saltato la scivolata super bene. Bravo questo player. Qua ci arriviamo per primi. No. Perché si carica di qua. Ok. Non ce l'abbiamo fatta ragazzi. Dannazione a DeMarc. Dannazione. Ok. Ok. Facciamo una scivolatona. E arriviamo in finale. Giochiamoci la finale. E proviamo a portarla a casa. E in finale abbiamo. Uh. Da quanto campioncini non facevo. O nei drop. Ok. Interessante come mappa. Vediamo un attimino se riusciamo a portarla a casa. Anche perché non è per niente semplice. Scontata. O nei drop come mappa. Però. Proviamo a giocarci un attimino. Per bene. Con calma. Eh. Qua. Sicuramente ci vengono a rompere le scatole. Qua. Prendiamo il blocco del miele. Diamo fastidio anche a quello scheletrino. Ok. Saltiamo di qua. Occhio. Occhio a dove andremo a saltare ragazzi. Occhio a dove andremo a cadere. Quindi qua. Carichiamo tutto quanto il miele da questo lato. Diamo fastidio a questo scheletrino. Smontiamoli un po' la mappa. Ottimo. Ottimo. Occhio. Saltiamo da questo lato. Eh. Si sta facendo tosta eh. Si sta giocando tutti quanti. Molto. 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 Molto bene. Quindi qua. Saltiamo da questo lato. Smontiamo di qua. Guarda che lo scheletro rosso viene a romperci le scatole. Ok. Uh. Ci ho provato a farlo cadere. Ok. Saltiamo di qua. Sono morti. Sono morti in tre player. Questo blocco qua rosso non si stava mai smontando. Quindi stiamo molto attenti. Stiamo molto attenti ragazzi. Ne sono morti sei. Sette. Abbiamo vinto. Ho ho. Una corona. Vi ho promesso che l'avete portata a casa ragazzi. E infatti l'abbiamo portata a casa. Noi ci vediamo qua campioncini. Challenge vinta. E corona portata a casa. Ciao.